Poppy Playtime, il gioco che ha conquistato l'universo E anche l'App Store, si Da quando è uscito il carissimo Poppy Playtime, tutti ci hanno dovuto fare i soldi, quindi Bene, oggi voglio far guadagnare le pubblicità, quindi me li sono scaricati E proviamoli insieme Vi ricordo ragazzi che su Amazon potete trovare il mio primo libro Le pietre del destino, vi lascio il link sotto in descrizione Mi raccomando, inviatemi le vostre foto su Instagram Il primo gioco si chiama Io non sono un mostro Ma no, dai, non si è stato creato per fare contenti bambini Da quando? Ah, non è un mostro A me piace provare queste applicazioni perché ci sono solo cose che posso vedere qui Ma che cosa sta facendo Agiwagi? Ragazzi, quando andate in cella, muovetevi così Ehi, 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 bellissimo Ok, primo livello Qual è il mio scopo? Mano blu, prendi la mano blu No, bellissimo Vai, libera Agiwagi Ho liberato Agiwagi Congratulazioni E siamo solo all'inizio Allora, ci sono pure la skin shop Posso addirittura sbloccare le skin? Ma la cicamala che ci fa qui? Ma che ci fa la cicamala su sto gioco? Abbiamo la bambola di Squid Game La cicamala Velma Ma che ci fa Velma? Scusami allora Come pet o Scooby-Doo? No, c'ho Ben di diavolo Cartoon Cat La 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 Elma è qui Ma io li devo sbloccare tutti questi Prossimo livello Ho preso 500 monete Ma io devo continuare Perché Scusa, ti ho salvato due secondi fa Perché ora ti sei rimesso dentro la gabbia? Proprio ti piace stare in gabbia? Dimmelo Ah, questo è per farci capire Che noi il nostro braccio Lo possiamo utilizzare come vogliamo Ok, stavolta le cose si fanno più complicate Abbiamo bisogno della nostra seconda mano La mano rossa Quindi mettiamo la mano rossa qui Che apre il portale E poi ci fa liberare Aggie Che continua a muoversi così Yeah Culle E che culo Cosa dico? Mi manca pochissimo Per sbloccare il nuovo personaggio Chissà qual è Sono riuscito a salvare Aggie E adesso Non ho capito Cioè Ma perché ce l'avete con il povero Aggie abbraccio? Abbraccio Aggie Abbraccio Aggie Cioè che cosa vi ha fatto di male? Almeno gli hanno messo un cuscino D'accordo Devo prendere il pin e rimuoverlo Certo che devo rimuoverlo Prende Via Cioè E' l'unico modo per salvarlo E' facilissimo Dai Ho sbloccato Gregory Questo per me è Gregory Basta Ora sono diventato Gregory Però ho tre cassette Con dieci cassette posso sbloccare La città mala Perfetto Prossimo livello Qua ci abbiamo tutti i giocattoli di Poppy Playtime Ovvero Cat B Robot Doggo Credo sia Robot Doggo Cosa devo fare qua? E' molto semplice Prima sblocco questo E poi sblocco questo Sono diventato ricco Sì Livello sei Tra poco arriviamo al boss E lo devo sbossare proprio Lo devo arrivarci Ok Questo è molto semplice Non devo far cadere i giocattoli nella lava Quindi No scherzo A parte che l'ho mancato Volevo farli cadere nella lava Tolgo questo va bene Oh e toiti E toiti E toiti Grazie Sono diventato di nuovo ricco E vai No ancora Aghi Ma che c'è Capito di tutti i colori Allora Prima si fa rinchiudere dentro una gabbia Poi si fa legare A un letto di ferro Adesso si fa appendere per una corda Non ti salvo più Aghi Non guardarlo Non guardarlo No 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 Non importa se ti chiede aiuto Help me Va bene dai ti aiuto Ma tu c'hai le capacità Sei un mostro Tu Un mostro Dovresti distruggere tutto Vabbè Eccolo il mostro finale Allora Dobbiamo Prendere tutte le nostre capacità Dobbiamo ancora fargli del male Come faccio a fargli ancora del male Dai continua Dobbiamo distruggerlo Allora Mano rossa Mano rossa No addosso Gli deve cadere Allora Dobbiamo aspettare il momento giusto Adesso Spum Grande Mi rimane l'ultimo Ok Non so effettivamente cosa io debba fare Sicuramente se io sblocco questo sblocco il verde Giusto? L'ho sconfitto Bel gioco Bel gioco Proviamo il prossimo Il prossimo gioco si chiama Puppy Prison Escape Dove dobbiamo scappare dalla prigione di Huggy Wuggy Puppy Prigione horror e scappa Ok Dobbiamo scappare dalla prigione di Puppy Playtime Siamo rinchiusi qua dentro Questo è un sacco di sangue Noi siamo un tipo molto losco Loschissimo Dobbiamo sfondare la porta O sfondare il muro? Allora sicuramente mi devo mettere qualcosa Per non farmi del male Tu che dici? Ma come? Ma che cosa significa? Ma che vuol dire? Cioè scusa Prima dovevo sfondare il muro con la testa E non con i pugni Io l'avrei sfondato con la testa Perché sono ariete Ok La prossima cosa da fare Ma quello è il cane di Tom & Jerry Che cosa gli do? L'osso? O il topo? Gli do l'osso Vieni bel cagnone Vieni Ce l'ha fatta? Ok ce l'ho fatta Non mi stesse per azzannare In un brutto posto Perfetto Prossimo livello Siamo arrivati Al di fuori Di questa prigione Cioè ma com'è possibile? Che c'era solo un cane da guardia In prigione Ma dove stanno le guardie? Scusami Devo superare il livello 3 Sto facendo piano Ma chi mi sente? Sei sul tetto No allora Scala O Ponte di legno Io direi La vedo molto brutta Perciò io direi scala Sì Com'è possibile? Scusa Ma quando la trova di legno Era la stessa cosa Non mi direi che si spezzava Wow Corro felice Sui campi di spine Continuo a scappare Adesso mi trovo Dal Dal Al tetto Alla lavanderia Ma che ci faccio Nella lavanderia Ok Cosa devo fare Nella lavanderia? No È lui La guardia Dobbiamo stare attenti Ok Posso fare due cose Mettermi Dentro il carrello Oppure Dentro la lavatrice Dentro il carrello Per forza Se ci mettevo Dentro il carrello Poi lui non ci scopre Lui ci ha scoperti Ah qui Però tu sei un po' Scem Non per dire Incredibile Sto per riuscire Di scappare Da prigione Però mi sa che non vale Questa Ci deve essere Un aggivote Che mi insegue Da qualche parte Posso fare due cose Arrampicarmi O tuffarmi Tuffarmi Cioè Arrampicarmi Vuol dire Prendere la scossa Elettricità Ti prego Salta e basta Fammi vedere E va bene Anche Tamberi Così Dobbiamo mandare Lui Le olimpiadi Per vincere L'ora Cioè Teoricamente Sono scappato Che è sta cosa Oh no Un tizio brutto Veramente brutto È proprio brutto Che cosa sta facendo Ma Scusami Se sono scappato Da prigione Adesso Perché mi trovo Dentro la mensa Cosa devo fare Io giuro Non ti ho rubato Il panino Ok Cosa posso fare Faccia pugni Non credo Guarda che bicipiti Stickman Che ha Chiamo la polizia Non lo so Cosa serva Viotate il telefono Però sono scappato Cosa Ultimo livello Ancora Huggy Stavolta è girato Però Devo trovare Un modo Per Andarmene Posso accendere La tv Oppure Spegnere la luce Spegnere la luce Sarebbe la cosa Più ovvia Ma forse Se accendo la tv C'è un programma Che a dagli piace Vediamo A dagli piace Vedere poppy Huggy mi devi dire qualcosa Va bene ragazzi Io direi che Questo video Delle app Su poppy playtime Lo posso anche Concludere qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscriviti al canale Se non l'hai ancora fatto Mi raccomando Mi lascio il link Del mio libro Sotto in descrizione Qual è il vostro Lorenz Questo è tutto E noi ci vediamo Ad un prossimo video Eeeeeee Ciao